bene ragazzi eccoci a un nuovo episodio di triangle strategy e andiamo a fare la missione la storia la storia allora vediamo cosa ci consiglia e ci consiglia e unità buono arco ok allora vediamo un po' 10 io la maga la voglio usare anche perché lei ha imparato invocazione pioggia aspetta fammi vedere questi che fanno ah non fa una magia lancia nel coltello ok 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 manca un'unità un'unità ah questa le cura per forza sono un po' pochi quelle che attaccano però la dovremmo fa' ma lascio questo dai ok ok metto l'altro mago ah si dai postiamolo così ok 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 Allora, io direi Tanto qua sotto non ci dovrebbe sta niente Qua sono tutti arcieri Io direi di salire Eh, iniziamo bene Cazzo, si aumenta la difesa Questa è visuale, non si vede una mazza Ah va Cazzo, non si vede 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 Quindi dobbiamo trovare il libro Non si vede Non si vede Non si vede sembra ubriaco un dissidente interessante un dissidente 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 un dissident un dissidente 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 un dissidente